Una serata di carnevale, una ventata di sana allegria anteprima del primo corso mascherato in programma il 18 settembre è andata in scena venerdì sera presso il Museo della Marineria. Il nostro collega Massimo Mazzolini ha scritto un libro profondamente legato allo spirito della città di Viareggio dal titolo Non erano solo canzonette, pubblicato dall'editrice Lancora. Un lungo viaggio in parole e immagini che parte dal 1925 con la prima festa della canzonetta al Teatro Eden per arrivare ai giorni nostri. Alla presentazione, che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, oltre all'autore sono intervenuti i giornalisti Adolfo Lippi, Umberto Guidi e Giampaolo Ghilarducci. Ha condotto la serata Federico Conti. Dicono che a Viareggio esistono due stagioni, l'estate e il carnevale e la canzonetta raccoglie appunto tutta la tradizione popolare del teatro, di quello che fa ridere, di quello che fa riflettere. Il teatro al quale i Viareggini sono sempre stati legati da un amore spassionato perché tutti noi abbiamo assistito alle rascite della canzonetta, ci siamo divertiti, le abbiamo ricordate durante tutto l'anno e abbiamo aspettato il febbraio dell'anno successivo per poi ripartecipare a queste serate divertentissime. Vecchie e nuove generazioni hanno ascoltato divertite il racconto di Massimo Mazzolini che con il suo libro ha colmato un vuoto relativo alla storia carnevalesca della città. L'applauso scrosciante del pubblico è stato l'indice di gradimento del suo accorato intervento. Io ho conosciuto questo spettacolo nel 1977 e da allora prima con Enrico Casani, poi con la compagna Burlamacco 81 che nasce proprio nell'81, abbiamo sempre e tutti gli anni portato avanti uno spettacolo. Quest'anno sarebbe stato il quarantennale, ahimè, il Covid non ci ha ancora permesso di festeggiarlo e mi auguro che questo si possa fare il prima possibile. In chiusura due momenti diversi, uno emozionante con la voce della splendida Susanna Pellegrini accompagnata dal maestro Grazzini, l'altro divertente con Lora Santini e Antonio Meccheri. Com'è? Com'è? E io gli ho detto, oh mazzolini, fai più pazienza, dico, ma puoi rimanere un altro giorno, non sono neancorita. Scusa, ma mi potrei telefonare? E tu ho telefonato? Ma tu mamma ha risposto, ma ha detto, è sulla giosta, andiamo qui dove la giosta.